Continua il lavoro della protezione civile per organizzare il trasferimento degli ucraini dalla nostra regione in altre collocazioni presenti sul territorio nazionale. La possibilità di restare nelle strutture turistiche abruzzesi è terminata per gli effetti di un decreto ministeriale. Dopo Alba Adriatica, anche a Martinsicuro, la notizia del trasferimento ha sollevato proteste e malumori. Agli ospiti presenti nel comune di Martinsicuro è stato comunicato il trasferimento in Puglia. Sono due le possibilità che ora hanno i profughi scappati dalla guerra e sono o quella di accettare il trasferimento o rimanere a proprie spese. Va ricordato che all'inizio del conflitto a Martinsicuro sono stati circa 200 gli ospiti accolti nel comune costiero. C'è stata una risposta adeguata da parte delle strutture ricettive ma anche da parte dei cittadini che hanno messo a disposizione le proprie abitazioni e quindi che hanno consentito a queste persone che sono scappate dalla guerra di poter trovare un rifugio sicuro. Chiaramente sono passate dei mesi, quindi adesso è in corso un'attività di ricollocamento di queste persone. Speriamo veramente che presto possano anche loro tornare a vivere nei loro paesi d'origine. I profughi hanno paura di essere sballottati da una parte all'altra senza nessuna considerazione e riferiscono alcuni operatori. C'è chi sta facendo di tutto per rimanere, chi si può permettere di pagare e molto probabilmente accetterà di far fronte a proprie spese all'affitto. Per rimanere in zona ma altri con meno possibilità dovranno per forza di cose accettare il trasferimento. Una condizione molto delicata visto che tra gli ucraini ci sono tanti bambini che stanno andando a scuola. Sì, ci sono persone che stanno trovando l'impiego, stanno cercando lavoro e quindi segno evidente che comunque sia hanno trovato un ambiente sano in cui vivere e in cui magari far crescere anche i loro bambini che sono stati iscritti poi nelle nostre scuole. Quindi per noi è un motivo comunque di orgoglio poter dare dei servizi anche a queste persone. Il sindaco Massimo Vagnoni ha voluto anche ringraziare il lavoro fatto da associazioni cittadini del suo comune che si sono subito attivati all'inizio dell'emergenza. È stata una bella risposta ma non avevo dubbi da questo punto di vista per cui tante persone si sono prodicate anche per fornire indumenti. Quindi hanno veramente fatto una bellissima rete solidale e quindi sono veramente orgoglioso dei miei cittadini.